Un calcio all'altezza delle ginocchia da parte di un calciatore della scuola di casa che ha protestato in questo modo per il cartellino rosso estratto dall'arbitro, un giovane fischietto della sezione Aia di Arezzo. La partita è quella del campionato di terza categoria tra Castel San Nicolò e Forti e Sarezzo. Al settantesimo sul punteggio di 4 a 0 per gli aretini accade il fattaccio. L'arbitro, dopo essere stato colpito violentemente, decine...